Parcheggi pieni già di buon mattino tra un continuo andirivieni di clienti, quelli che al mare preferiscono una giornata di shopping o semplicemente qualche ora al fresco. E' l'altro volto della prima domenica di luglio a Bari, niente ombrelloni e spiaggia, ma solo gallerie e vetrine dei centri commerciali per cercare qualche affare di inizio saldi o per la tradizionale spesa alimentare. Dica la verità, è venuta qui per il fresco o per fare la spesa? No, per fare la spesa. Tanto il caldo ce l'abbiamo dappertutto, non solo qui. Farà anche acquisti? Beh, mirati, però non ancora per i saldi perché aspetto la possibilità di uscire con mia moglie prossima settimana per gli acquisti in saldi. Ma sua moglie dov'è? A casa. Quindi lei è a soffrire di caldo e lei è qui al fresco? Mia moglie è a soffrire di caldo? No, mia moglie sta con l'aria condizionata di casa, scusa. Ma trascorrere qui la domenica d'estate può anche diventare un rito. Si sta in compagnia di alcuni amici, ecco, una domenica normalissima. Ma le mogli tutte a casa le avete lasciate? Non nominare le mogli, non mi rovinerò la giornata. E non mancano quelli che cercano solo aria condizionata. Quindi ci sono gli abituai dell'aria condizionata? Sì, solo che spesso è spenta e quindi sudano e se ne vanno. Un bacione grande a Baggistà perché è una persona molto, molto squisita. Ciao direttore, sei in gamba, ti vediamo ogni mattina.